Musica Tante le esperienze e gli incontri nel terzo giorno del meeting di Rimini, telepace in diretta per i principali avvenimenti. 20 giorni in Africa per 11 ragazzi del liceo allestimate di Verona per incontrare la popolazione e mettersi in gioco a contatto con la vita. Il ventenne afgano investito ieri da un treno a Verona, una vittima dei viaggi della speranza. Buonasera Ben, ritrovati dal Tg di Telepace. A 120 anni dall'elezione sulla Cattedra di Pietro, la Diocesi di Treviso, la Fondazione Giuseppe Sarto e il Comune di Riese in provincia di Treviso celebrano con una serie di eventi San Pio X eletto Papa il 4 agosto 1903. Nella cittadina veneta che ha dato i Natali al 257esimo vescovo di Roma al secolo Giuseppe Sarto, ieri giorno successivo all'anniversario della morte avvenuta 109 anni fa, il vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto ha celebrato la missa nella parrocchia di San Matteo a cui è seguita la tradizionale processione alla casa natale del Pontefice Santo. Ricordo che a ottobre le spoglie del Pontefice canonizzato nel 1954 saranno portate in pellegrinaggio alla Basilica di San Pietro e faranno tappa nei luoghi in cui è vissuto il Santo Papa. Tra le esperienze e gli incontri del terzo giorno del meeting di Rimini e tanti gli argomenti di cui si è parlato anche oggi Telepace continua a seguire gli appuntamenti più importanti e ieri c'è stato anche Monsignor Baturi, segretario generale della CEI. Ascoltiamolo. Eccellenza, l'esistenza umana è un'unicizia inesauribile. Il titolo del meeting 2023, l'ho appena presentato ci spiega qual è il significato di questo titolo. Parlare dell'amicizia significa parlare dell'esistenza dell'uomo perché abbiamo amici, riconosciamo il bene della vita attraverso amici e anche la delusione dell'amicizia ci aiuta a comprendere ciò che davvero desideriamo. L'amicizia è la forma più compiuta di amore perché è un amore corrisposto, un amore di mutua benevolenza. Ci si aiuta, ci si sostiene, insieme si cerca la verità, ci si accompagna al destino. Ecco, è una sorgente inesauribile l'esistenza perché l'esistenza stessa mi mette in relazione con il mistero di Dio che è da accettare, da riconoscere, con l'esistenza degli altri fratelli, uomini, il cui destino appartiene anche alla mia vocazione. Il meeting arriva in un momento in cui, dopo un anno, dopo oltre un anno di guerra in Ucraina, dopo anni in cui il Pontefice parla di una guerra mondiale a pezzi, che cosa vuol dire essere amici oggi? Qual è la pretesa di questo titolo? Che cosa può significare? Più che una pretesa è un'esperienza profonda, come diceva San Bernardo, che appartiene al nostro vivere, al nostro esistere. Negare che la vita sia data dal mistero di Dio crea violenza, una violenza che poi si esprime come una contrapposizione tra il tu e l'io, l'altrui e ciò che è mio. L'amicizia invece sta alla radice dell'esperienza della pace, perché è il riconoscimento che il mio cammino verso il bene, la verità, verso il destino, avviene in compagnia di chi mi ama e delle persone che io amo. E' l'esperienza in cui, cioè, l'io riconosce il tu dell'altro come un bene prezioso. Per costruire quello che ci ha detto fin qui, che cosa ciascuno di noi può fare nel proprio quotidiano? Che cosa è chiamato a fare? Prendere sul serio la propria vita come esigenza ed esperienza di amore e vivere con semplicità ma con verità l'amicizia, sapendo che è un cammino di attenzione e di cura vicendevole ma verso il bene. Questo riguarda anche la violenza della guerra, perché dobbiamo immaginare che più si dilata questa amicizia, più la nostra società diventa umana, capace di prendersi cura degli uomini, dei più bisognosi, e più diventa possibile immaginare un futuro di pace tra i uomini. E dunque Telepace continuerà a seguire i meeting di Rimini fino a venerdì, giorno in cui interverrà il presidente Mattarella nella chiusura del grande evento. Ricordo che domani alle 14.45 saremo in diretta con testimonianze e interventi e la relazione sul tema l'appiattimento del mondo e la domanda di verità. In queste settimane nel Veronese sono state spezzate tante giovani vite. Chris investito alcune settimane fa a San Vito di Negrar, Anna annegata nel lago di Garda per cercare di salvare il fratello più piccolo. Tante storie diverse, tra questa l'ultimo, quella di un giovane ventenni afgano rimasto ucciso ieri da un treno regionale all'altezza di Basso Acquara, Verona, vittima di un viaggio della speranza. Su quest'ultimo caso abbiamo intervistato Don Giuseppe Mirandola, direttore del Centro Pastorale Immigrati di Verona. La rotta migratoria, o meglio, le rotte migratorie sono segnate da questi drammi. Ecco, la prima cosa, penso, è prendere coscienza di questo fatto, che sia la rotta del Mediterraneo, che sia la rotta balcanica, possiamo andare anche verso le Canarie, possiamo andare negli Stati Uniti. Ecco, ci accorgiamo che tutte le rotte migratorie sono segnate da questi drammi e questo dovrebbe darci da pensare. Tra l'altro, proprio in questi giorni, il secondo anniversario del ritorno dei talebani in Afghanistan, fa ancora più pensare questa giovane vita strappata. Sì, questo, come dire, si aggiunge a quel dramma vissuto, ma che ha avuto anche alle spalle un periodo grandissimo, lunghissimo di guerra. Dentro questo lungo periodo di guerra sono stati coinvolti paesi europei, l'Italia stessa. Ecco, a volte dimentichiamo la storia e invece ecco che la storia ci raggiunge. E noi tante volte la storia la mettiamo sotto il tappeto e noi continuiamo ad andare avanti. Ecco, ci serverebbe un po' più di coscienza storica anche per affrontare la situazione migratoria. 20 giorni in Africa per 11 ragazzi del liceo all'estimate di Verona per incontrare la popolazione e mettersi in gioco a contatto con la vita. Vediamo. Vacanza diversa per 11 studenti e studentesse del liceo all'estimate di Verona che hanno passato 20 giorni in una missione stimmatina in Tanzania in compagnia di due insegnanti e di fratel Franco Marangoni. Siamo stati nella valle dello Iovi, che è questa valle bellissima con una terra molto rossa e con una natura molto rigogliosa e molto verde, nella missione dei padri stimmatini di Amisoua. Le nostre giornate erano principalmente divise in due parti. La mattina si lavorava, quindi c'era il lavoro manuale, mentre il pomeriggio si andava a visitare i villaggi o c'erano incontri appunto con persone, i ragazzi e i bambini. Allora, sicuramente la prima cosa più difficile è stata adattarsi con il fattore dell'acqua, perché siamo andati nella stagione secca, quindi l'acqua che c'era era poca e quindi bisognava utilizzarla con parsimonia. In più, a volte, quella del rubinetto scendeva marrone e in più non era neanche potabile, quindi era un po' un problema. L'esperienza, nata 30 anni fa dall'entusiasmo di padre Zanon, si è consolidata negli anni, dando ai ragazzi un'opportunità preziosa di crescita umana. Per me i bambini hanno rappresentato, diciamo, la gioia dell'esperienza in Africa. I bambini danno un sacco e sono stata davvero felice di condividere dei momenti con loro. Sicuramente la condivisione con i ragazzi del liceo che ho accompagnato e soprattutto partire con un'idea e tornare con un'idea tutta nuova di cos'è l'Africa. Quindi questa per me è stata la cosa più bella, ricredermi su un posto, un luogo che non avevo mai visto prima. E cos'è l'Africa? L'Africa è un qualcosa che non si può capire se non si visita anche da un punto di vista di idea di povertà. Noi abbiamo un'idea di povertà ma quando si arriva in Africa si cambia totalmente perché è vero che esiste la povertà in quei luoghi però è diversa da come noi ce la immaginiamo. Cosa ti porti a casa da questa esperienza? Mi porto tantissime cose, tantissime cose belle sicuramente e in particolare la felicità che mi hanno trasmesso lì è un qualcosa che voglio portare anche qua. Il Film Festival della Lessigna apre giovedì 24 agosto alle 21 con un'anteprima che guarda il futuro del cinema e il reino del paese di Bosco Chiesa Nuova protagonista. In attesa dell'inizio delle proiezioni al Teatro Vittoria sul grande schermo allestito sotto il campanile della Piazza della Chiesa la rassegna cinematografica dedicata a vita, storie e tradizioni in montagna propone una selezione di cortometraggi girati in formato verticale in collaborazione con Vertical Movie Festival la prima manifestazione internazionale di film in verticale la serata come ospite Salvatore Marino direttore artistico del festival la cui sesta edizione si svolgerà a Roma in ottobre Grande serata domenica sera all'Arena di Verona per il Centesimo Opera Festival con la star della lirica Jonas Kaufman Vediamo Grande serata domenica sera all'Arena di Verona per il Centesimo Opera Festival con la star della lirica Jonas Kaufman dopo successo come Radamessi Naida nel 2022 e nel Gala che ha segnato il suo debutto in anfiteatro nel 2021 Il tenore bavarese è stato protagonista del Gala interpretando ruoli che l'hanno distinto sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo come Otello, Andrea Chenier e Mario Cavaradossi nella Tosca di Puccini Accanto al tenore sul palco a Regnano altre due grandi star il soprano Sonia Joncheva protagonista durante il festival anche della Tosca con la regia di Hugo Deana e il baritono Ludovic Tesee che a Verona canta anche nella Ida firmata da Stefano Poda A dirigere l'orchestra della Fondazione Arena di Verona il tedesco Johann Rieder già sul podio nel Gala con Kaufman nel 2021 la serata è stata un crescendo di suoni e di emozioni e ha trascinato il pubblico entusiasta conducendolo dalle più celebri pagine liriche fino al musical West Side Story di Leonard Bernstein e alle colonne sonore dei film come The Mission composta da Ennio Morricone e Gladiator scritta da Hans Zimmer il pubblico ha accolto con partecipazione i famosi brani tratti da Carmen di Georges Bizet fino alle melodie popolari come Non ti scordar di me di Ernesto De Curtis il centesimo Arena di Verona Opera Festival che si svolge con il doppio patrocinio del Ministero della Cultura e della Regione del Veneto è in scena fino al 9 settembre con otto titoli d'opera quattro serate di gala e un concerto straordinario Ed è tutto per questa edizione grazie per essere stati con noi e buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti